Salve, vediamo come è fatto il prodotto porta basculante POR235 della ditta CUTMATE. E' possibile gestire la porta con quattro modalità, totalmente aperta, quindi sia dall'interno che dall'esterno. E' possibile entrare solo dall'esterno, è possibile uscire solo dall'interno verso l'esterno, è possibile chiuderla totalmente. Nella confezione sono incluse le viti di montaggio e la dima. Ci sono tre diverse misure delle viti. Il motivo per il quale ci sono tre diverse misure delle viti è perché è possibile accorciare lo spessore della porta. Lo spessore massimo è 50 mm. Tagliando una o entrambe le sezioni del tunnel con un taglierino, è possibile adattare la porta basculante allo spessore della propria porta. e quindi utilizzare la porta basculante anche su porte con spessore inferiore ai 50 mm, diciamo circa un 20 mm.